Dal fatto che prima di correre si potessero vedere le heat map, cioè dove tutti gli altri hanno corso in una particolare location, a Livigno è stata una cosa davvero vantaggiosa e soprattutto anche durante la corsa la visualizzazione del Sunto 7 è talmente nitida con i 1000 nit che ad ogni momento, anche con il sole più coccente, siamo in grado di verificare qual è il nostro passo medio piuttosto che la distanza dell'orologio stesso. Sono l'ultimo e sicuramente non il più autorevole recensore del Sunto 7, ma da podista amatore voluto non potevo fare a meno di recensire questo bellissimo dispositivo. L'ho testato per un mese in pista sul tapiroulan a Livigno e ovviamente anche a casa. Non ho preso un aereo in questi mesi, di solito un test che faccio per verificare se il GPS funziona in maniera rapida e in dolore, ma l'ho tenuto al polso per oltre 600 km, cosa che mi permette da podista amatore voluto di stabilire pregi e difetti di questo strumento molto innovativo. L'ho confrontato con dispositivi simili da Apple, Garmin, Polar e l'ho pure confrontato con ulteriori prodotti Sunto che avevo testato nei mesi scorsi, oltre che con i dispositivi cinesi di cui parlo di solito ai miei corsi di Livigno. In questi corsi preannunciavo già da un paio di anni la convergenza tra sportwatch e smartwatch. I secondi sono quelli che consentono di pagare, ascoltare musica, telefonare e sostituirsi in parte agli smartphone, mentre i primi sono quelli che vi permettono di allenarvi intensamente in tutti gli sport possibili e immaginabili e rilevare la fisiologia dello sport praticato con dati utili a chi si allena seriamente. Cosa dire di questo Sunto 7? Lo definirei una sfida dalla parte dell'azienda finlandese che ha avuto il coraggio di innovare, combinando almeno secondo gli intenti il meglio di entrambi i mondi. Ma ci sarà davvero riuscita Sunto? Per me che uso per 22 ore uno smartwatch e per 2 ore uno sportwatch, direi che questa è una proposta indecente che sicuramente dal mio punto di vista vale la pena testare. Ma come vedremo nella recensione che ho cercato di semplificare al massimo, utilizzare questo dispositivo e gettare tutti gli altri significa accettare diversi compromessi. Ricordiamo comunque nella recensione che per la mia prospettiva è quella di un atleta amatore, ma per le mie esigenze giornaliere ho sicuramente la necessità di utilizzare anche uno smartwatch. In effetti finora uno sportwatch non ha tutte le funzioni che servono, secondo me, per l'utilizzo quotidiano durante la giornata. Veniamo alle specifiche che sono davvero eccellenti. Quella è hardware, l'orologio pesa soltanto 70 grammi, ha un cristallo in Gorilla Glass, la ghiera in acciaio inossidabile, il cinturino in silicone e touchscreen, ha un display AMOLED ben visibile, il display tra l'altro è 454x454 e soprattutto ha una luminosità fino a 1000 nit, che sicuramente negli altri dispositivi sportwatch non si verifica. Viene utilizzato, e questa è la grande novità, il Wear OS di Google, sistema con il quale possiamo pagare con la NFC, con Google Play Music potremo ascoltare musica, funziona anche Spotify e le cuffie J-Bird Vista vanno davvero benissimo. C'è anche Google Assistant che però funziona solamente con le cuffiette, perché l'orologio non ha, a differenza dell'equivalente Apple, un microfono. Per quanto riguarda il GPS, include un chipset Qualcomm che registra i dati ogni secondo e gestisce i quattro satelliti principali, tra cui Galileo, e di conseguenza potremmo pensare di primo acchito che la precisione del GPS sia davvero significativa. Il sensore cardio è quello di LifeQ, è un'azienda americana che nel passato consentiva di gestire e supportare i sensori di TomTom, ormai defunto. Tra l'altro il cardio da polso registra ogni secondo, mentre sulle 24 ore la registrazione viene effettuata solamente ogni 15 minuti, che secondo alcuni potrebbe essere un problema. Forse non sono stato capace di attivare la rilevazione continua, ma vedendo il forum sembra che proprio questa sia una limitazione che probabilmente nei prossimi mesi Sunto toglierà, a condizione però di accettare una ulteriore riduzione della batteria, essendo l'autonomia abbastanza limitata rispetto agli sport watch, che invece hanno un display sicuramente meno efficace. Per quanto riguarda la connessione al Bluetooth e al Wi-Fi di casa, funziona drammaticamente bene al punto tale che nei diversi confronti molto spesso il Sunto era il primo orologio in grado di trasferire i dati su Strava, che è la mia piattaforma di condivisione dati e di solito portavo due orologi per effettuare un confronto con diversi dispositivi. Funziona invece molto meno bene il collegamento con sensori esterni, nella fascia cardio, nei sensori di potenza Stride o RunScribe in effetti si collegano o meglio si collegano ma non sono utilizzati, grossa delusione perché il Sunto 5 e il Sunto 9 avevano, secondo me, implementato la gestione della visualizzazione della potenza in maniera molto efficace, al punto tale che funzionavano perfettamente con il sensore Stride. Chiaramente avendo a disposizione Wear OS è possibile per esempio scaricare Ghost Tracer, che è uno strumento che di third party consente in effetti di gestire al meglio la potenza ma secondo noi la soluzione migliore resta quella di utilizzare gli strumenti standard. Infine, anche se ci sono 70 modi di visualizzazione sportiva, la personalizzazione delle schermate non si riesce ad effettuare ma si devono usare campi standard, per me quello non è fondamentalmente un problema anche perché i campi a disposizione sono tutti quelli che servono ma sappiate che questa limitazione in altri orologi invece non c'è. Anche per quanto riguarda le ripetute pianificate, il Sunto 7 non ha come invece i fratelli maggiori uno strumento che consente di effettuarle in maniera semplice ma invece ha un'app che di fatto semplicemente eviterà ulteriori schermate con le quali poter stabilire quali sono i tempi intermedi per le ripetute. Tuttavia, pur avendo a disposizione dei campi supplementari, non posso considerarlo uno strumento per l'intervall training propriamente corretto. Per quanto riguarda la durata della batteria è sicuramente decente ma come sappiamo utilizzando per esempio l'Apple Watch rispetto agli smartwatch questi dispositivi hanno una luminosità dello schermo fantastica ma per chi corre come me due volte al giorno l'orologio deve essere ricaricato tra le 36 e le 48 ore anche perché si perde il 15-20% della durata della batteria ad ogni uscita della durata di almeno un'ora. Ma ripeto, secondo me questo è un trade-off che accetto volentieri anche perché lo schermo a disposizione è sicuramente un gioiello rispetto a quello che invece viene offerto dai normalissimi sportwatch. Al mattino sono rimasto davvero sorpreso che questo Sunto 7 non consente di valutare in maniera corretta la durata del sonno anche perché questa funzione non è ancora stata implementata se non attraverso Wear OS con per esempio uno strumento che potrebbe essere Sleep ma nelle funzioni native non esiste una funzione che consente invece di analizzare il sonno come invece questa cosa importante per noi potessi amatori è presente su tutti gli sportwatch. Per quanto riguarda la correttezza del sensore cardi abbiamo visto su tutti i forum che in effetti non è il massimo. ho rilevato diversi errori di misurazione soprattutto nei primi minuti di corsa però dal mio punto di vista non lo vedo come un vero problema anche perché il podista amatore voluto sa che il sensore cardio è per definizione limitato e di conseguenza o utilizza una fascia cardio oppure come me sfrutta la potenza anche per quanto riguarda la distanza penso che il sistema sia abbastanza acerbo l'errore rispetto a un GPS voluto è dell'ordine dell'1 1,5% e se confronto le ultime 45 uscite con vari GPS vedrò che il sunto 7 tende a sovrastimare il risultato che di per sé soprattutto in questo periodo di corse virtuale potrebbe non necessariamente essere un problema ma sappiate che di fatto l'errore può essere intorno all'1%. diciamocelo però chiaramente sono davvero rimasto impressionato dal fatto che prima di correre si potessero vedere le heat map cioè dove tutti gli altri hanno corso in una particolare location a Livigno è stata una cosa davvero vantaggiosa e soprattutto anche durante la corsa la visualizzazione del sunto 7 è talmente nitida con i millenit che ad ogni momento anche con il sole più coccente siamo in grado di verificare qual è il nostro passo medio piuttosto che la distanza dell'orologio stesso. Tutte queste cose che vi ho raccontato mi fanno concludere che questo bellissimo sunto 7 sia più adatto a chi occasionalmente fa sport e vuole ascoltare musica pagare e magari avere uno strumento molto elegante da indossare in ufficio o prima di prendere un aperitivo. Per l'atleta evoluto invece il sunto 7 non è perfetto resta però un coltellino svizzero che può essere utilizzato in tutti e due i mondi imperfetti come sottolineato dall'azienda finlandese. Ad ogni modo è sicuramente la migliore implementazione di Wear OS e di Google non resto però a filosofare sul fatto che l'IOS ha un'implementazione quantomeno similare per chi vuole correre ed utilizzare uno smartwatch. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi e recensisco tutto quello che riguarda la tecnologia sportiva se vi è piaciuta la recensione apprezzerei l'iscrizione al canale soprattutto se siete interessati ad ulteriore recensione di scarpe di tecnologia da corsa. Nel frattempo stay strong e ci vediamo alla prossima!